Non è passato inosservato il nuovo danneggiamento alla grata in legno di Porta San Pietro. Dopo che lo scorso anno un camion della ditta incaricata di allestire il palco del Rolling Stone danneggiò la grata, poi restaurata e risistemata il 4 aprile scorso, in molti hanno segnalato alla nostra redazione e sui social media un nuovo danneggiamento, non sappiamo se denunciato o meno. Fatto sta che, presumibilmente un mezzo pesante, ha urtato nuovamente le punte in ferro della grata, spaccando il legno dell'asta e scardinando il puntale dal suo alloggiamento, che adesso rimane in una posizione molto precaria. Il danno risulta molto evidente ed è improbabile che l'autista del mezzo non si sia accorto di nulla. E molte delle segnalazioni ricevute in redazione lamentano il fatto che spesso i camion che accedono al centro storico, per quanto forniti di deroghe e autorizzazioni, non siano scortati, magari da una pattuglia di vigili urbani, in modo da assicurarsi che non accadano incidenti come questo senza che vengano individuate responsabilità.